Ci sono luoghi che non hanno tempo, la vita scorre impalpabile sulla storia. Il cielo gioca con gli spazi, scivola sui tetti delle case, corre lungo i ciottoli delle strade. Percorrere la via del tempo significa assaporare in ogni istante il presente, sentirlo vivere intorno a noi, sentire di farne parte. Percepire i suoni, le voci della gente, mantenere il contatto con ciò che ci appartiene, desiderare di volare per vedere dall'alto la città che si muove. La via è un viaggio che continua nel tempo, dalla prima pietra posata sulle rive del Ticino alle cento torri gentilezze. Dal castello Visconteo all'università, una città da scoprire, percorrendo le strade e i vicoli protagonisti della vita, di personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità. Una città ricca di storia racconta la storia di tutti. E per conoscerla basterà attraversare le sue strade e fermarsi ad ammirare. Pavia è una città da vedere tutta ad un fiato, in un paesaggio che unisce arte e cultura, storia e futuro. Pavia, città d'Italia, città del mondo.